Economia circolare per una Toscana a rifiuti zero. Questo è il titolo della nostra proposta di legge che oggi vi sottoponiamo sulla nostra piattaforma operativa Rousseau in attesa dei vostri contributi. È indispensabile aprire in Toscana un percorso virtuoso che veda il rifiuto come una risorsa e in questo modo superare l'economia lineare che è quella attuale delle strai, produci, consuma e getta per andare verso un'economia circolare sostenibile. Con questa proposta di legge noi andiamo a creare delle opportunità di rilancio per l'economia regionale. Pensate che per ogni milione di tonnellata riciclata possiamo creare 2.000 posti di lavoro e il riciclaggio dei materiali crea 10 volte i posti di lavoro di un inceneritore. Come fare? Intanto dividendo chi gestisce la raccolta da chi gestisce lo smaltimento. Noi pensiamo che sia opportuno che i comuni gestiscano la raccolta in modo autonomo, in questo modo diventano proprietari di queste importanti risorse e possono venderle nel mercato libero e quindi apportare anche delle risorse nelle casse comunali. Attualmente vige un grosso conflitto di interessi tra chi gestisce la raccolta che è anche il solito soggetto che gestisce lo smaltimento dei rifiuti. Pensate se io fossi il soggetto che viene a fare lo spazzamento, la raccolta differenziata anche porta a porta e magari sono il proprietario di un impianto di incenerimento o di una discarica ho tutto l'interesse di portare questi rifiuti dentro il mio impianto di incenerimento e di discarica. Allora con questa proposta di legge noi prevediamo una moratoria per tutti gli inceneritori toscani, diciamo no, li chiudiamo tutti e dentro tre anni questi impianti dovranno essere convertiti in impianti a freddo. Nessun nuovo impianto dovrà essere autorizzato. Netta distinzione tra chi raccoglie e tra chi smaltisce queste importanti risorse. Tariffa puntuale in modo tale da chi per premiare chi raccoglie in modo differenziato rifiuti e per premiare chi produce meno rifiuti. Noi prevediamo di arrivare a una produzione di rifiuti di 81 kg pro capite al 2030. Attualmente in Regione Toscana produciamo circa 500 kg pro capite. Vogliamo passare da 500 kg a 81 kg pro capite. Dobbiamo arrivare a un riciclo quasi totale del materiale con uno step al 2020 dove si prevede di riciclare il 70% del materiale che deve essere differenziato porta a porta con una raccolta porta a porta estesa su tutto il territorio e prevediamo che entro il 2020 tutta la Regione ci sia una raccolta porta a porta che produca una differenziata di almeno 75%. Inoltre introduciamo l'osservatorio regionale su rifiuti con al suo interno il mondo dell'università, della ricerca, dei distretti produttivi per monitorare anche quella parte di rifiuti non gestita che non dovrà essere gestita direttamente dai comuni e mi riferisco ai rifiuti speciali, ai rifiuti che derivano dal sistema produttivo. Inoltre prevediamo che la Regione Toscana sia uno stimolo al settore dell'economia circolare attraverso il cosiddetto Green Procurement cioè prevediamo che la Toscana acquisti materiale derivanti esclusivamente da recupero o riciclo fino al 100% entro il 2050 con un percorso progressivo e virtuoso. Ora aspettiamo il vostro contributo per rendere questa legge migliore e quindi rendere migliore anche la nostra Regione Toscana.